Roberto Valerio, la vostra fondazione si è spesa, si spende ormai da tanti anni per quanto riguarda anche le malattie infantili, i tumori infantili nello specifico. Soprattutto le malattie infantili e le patologie gravi del sangue in tutto il mondo. Oggi presenteremo il progetto Neuroblastoma che purtroppo ha al triste primato questa malattia di essere la prima causa di morte nell'infanzia per malattia. Lo presenteremo qui in regione perché è imminente una nostra pubblicazione insieme ai più importanti ospedali del mondo che proprio riguarda il progetto Neuroblastoma. Ci sarà anche uno spettacolo a sostegno del progetto stesso per raccogliere dei fondi? Sì, ci sarà uno spettacolo il 26 di marzo, Il mio Gesù, un'opera di Beppe Dati con la presenza di Leonardo Pieraccioni che avrà anche un ruolo attivo durante lo spettacolo. Senta, può fare un appello a chi ci sta ascoltando perché possa spendersi in vostro favore ma soprattutto in favore di poi come termine ultimo di chi soffre i bambini? Cancro e bambino sono due parole che non dovrebbero mai incontrarsi ma conoscendo Chiur Tu Cidre si potrà comprendere che purtroppo è uno scenario terribile e c'è ancora tantissimo da fare. Io mi rivolgo a tutte le persone che mi stanno guardando e ci stanno ascoltando di partecipare innanzitutto il 26 marzo al bellissimo spettacolo Il mio Gesù e poi diventare successivamente appassionandosi volontari della fondazione Chiur Tu Cidre in supporto ai bambini con tumori e malattie del sangue indipendentemente di qualunque luogo loro si trovano. È un progetto rivoluzionario nato nel 2007 e tutto pensavamo di riuscire poi a mettere sul campo realmente progetti così innovativi e curare migliaia di bambini.